Ok, allora, vediamo come usare invece uno script per poter togliere questo eventuale effetto di riflesso che vi trovate sui vostri materiali. Abbiamo visto che il materiale questo, che ha per esempio Specular 1, che ha anche un altro parametro sbagliato, supponiamo di averne tantissimi di questi materiali, quindi questo potrebbe essere ottenuto anche semplicemente duplicando il materiale, quindi facciamo materiale, ho fatto CTRL D adesso per duplicare, materiale 2, e poi faccio CTRL D, materiale 3, ecco, e magari questi materiali non soltanto ce li abbiamo qua, ma ce li abbiamo sotto delle cartelle, per esempio qui abbiamo una cartella dove c'è una, per esempio vi siete fatti una cartella che avete chiamato, che ne so, Pippo, e dentro questa cartella ci mettiamo uno materiale, quindi in linea di principio come vedete questi materiali sono tutti sbagliati, e sono sbagliati in quanto hanno Specular 1 e hanno anche l'altro dato che era la roughness, la ruvidità sbagliata. Allora, in questi casi io ho pubblicato un piccolo script che basta agganciare a una scena qualunque, poi lo potete togliere una volta che ho fatto il suo mestiere, oppure togliere lo script della scena, quindi andate sulla scena principale, per esempio, e gli aggiungete uno script, quindi lega script, nello script, anziché cubo.gd, gli mettete antiriflesso. Vabbè, l'ha chiamato cubo.gd, in realtà io l'avrei chiamato antiriflesso. Teniamolo cubo.gd, giusto perché questo. Poi andate a prendere lo scriptino che ho pubblicato, questo scriptino, che vi dà uno script abbastanza lunghino, questo qui, che adesso magari commentiamo un attimino, fate row, quindi vi fa vedere lo script com'è, ctrl a, ctrl c, andiamo sullo script che avete qua, ctrl a, ctrl v, e avete messo lo script famoso che fa l'antiriflesso. A questo punto cosa succede? Che salvandolo, ctrl s, se lanciate la scena, quindi se prendiamo questa scena qua, che abbiamo visto che in questo momento genera questo cubo fatto così, ma se noi lo lanciamo in questo momento, vediamo un attimino, vedete che il cubo adesso è diventato non più riflettente, e qua sotto ci ha detto che cosa ha fatto, quindi ha detto che speculare uno, speculare uno, eccetera, eccetera, quindi mi aspetto, quindi vedete che è andata a partire da raise, vedete handling, vuol dire che ha dovuto maneggiare queste cose, e gli ha trovato dei valori che non andavano bene e li ha aggiustati. Se rilanciamo la scena adesso, quindi facciamo il rilancio della scena, vi dovrebbe far vedere i valori del specular e del roughness, vedete che specular vale 0 e roughness vale 1, rubidità 1, quindi in questo modo lui ha preso tutti i materiali che ci sono e li ha adattati. Questa cosa è da considerarsi, questo script cubo GD, è da considerarsi una cosa che voi fate, magari soltanto per mettere a posto tanti materiali, però tenete conto che se per caso alcuni di questi materiali devono avere veramente la specular diversa da 0, è ovvio che questo vi distrugge i materiali che eventualmente devono essere veramente speculari. Però visto che la quantità di materiali speculari sono abbastanza pochi, direi che questo dovrebbe essere sufficiente. Quando avete finito di usare lo script, lo script che toglieva la trasparenza, questo qui vedete che come effetto andava a cercarsi partendo da res, quindi tra parentesi se voi sapete che in realtà i materiali sono sotto un res pippo, potreste cambiare questo script e mettergli qua, ad esempio res pippo, e quindi lui parte a partire da pippo a cambiare i materiali, quindi questo può essere un modo per rendere lo script più efficace. Questo in pratica cosa fa? Lista recursivamente, quindi va in tutte le sottodirettore, a partire da un indirizzo iniziale che gli date, con un suffisso che gli mettete appunto material, e per ognuno dei file che trova, va a prendere il materiale, e vi va a sostituire il valore metallic a 0, il metallic specular a 0 e la roughness a 1, e in questo modo voi siete sicuri di avere, e poi risalva il file così fatto. La parte sotto dello script è semplicemente un meccanismo per navigare su tutti i file, che adesso non vi sto a descrivere. Quindi abbiamo lo script aggiunto, quando non vi serve più, fate tasto destro, elimina, lui vi dirà che è usato dalla scena, lo rimuovete, e poi ricordatevi di togliere il svuota script, in modo tale da non lasciare traccia di quello script, perché magari non vi serve più. Chiaro che se vi serve, lo potete riprendere in qualche modo, o dal paste build, come avete visto, o comunque se lo pubblico da altri progetti dove ce l'avete. Quindi questo è un po' tutto per questo video, il prossimo volevo farvi vedere tutto questo pezzo che ho fatto di tirare dentro un cubo, per farvi vedere che insomma la sequenza di import è abbastanza semplice, e in teoria con Godot 3.1 dovrebbe anche arrivarvi giusta questa volta. Vi ricordo che è appena uscito Godot 3.1 vero e proprio, quindi da adesso in poi usate Godot 3.1 perché non dovrebbe avere più bachi. Questo è tutto.